Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da TuttoTech. Oggi vedremo un po' come gestire il nostro tempo con Alexa. Già è difficile gestirlo per noi normalmente, almeno ce lo semplifica un po' lei. Esatto, magari ci organizza un po', ci dà dei ritmi, ci dà delle impostazioni, delle sveglie, non diciamo altro. No, magari ti dà anche dei promemorie, perché magari, non lo so, mia moglie ha visto in televisione la pubblicità di un programma su Realtime che mi piaceva tantissimo, dice caspita, l'ha imposto lì, è la prima cosa che mi è venuta in mente, fortunatamente è entrata nell'ottica della domotica e ha detto, imposta promemoria e ha impostato che per quel giorno e a quell'ora verrà detto che deve stare attenta perché inizia quel programma. Benissimo, altra cosa semplice, vedrete, ma che sarà molto utile. Ma prima di tutto ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina e beccatevi la nostra sigla! Entriamo nell'app Alexa, clicchiamo sui trettati... Entriamo nell'app Alexa, clicchiamo in alto a sinistra sui tre trattini, che sembrano scioglilingua, mi è venuta la lingua tartara, comunque clicchiamo lì, perdonateci, e a questo punto clicchiamo su promemoria e sveglie. Si apre questa schermata, possiamo sia digitalmente impostare una sveglia, un promemoria o un timer, oppure dirlo vocalmente. Prima vi facciamo vedere come si fa touch, diciamo, quindi direttamente dallo schermo del vostro cellulare, dopodiché faremo la prova anche in maniera vocale. Quindi non fate altro che cliccare sul più, e qui vi dice, vuoi aggiungere una sveglia? Quando? Quindi vi chiede di selezionare il dispositivo, perché magari avete un dispositivo in sala, uno in camera, uno in cameretta, e a voi interessa che suoni solamente in camera da letto. Quindi andate a selezionare quello che più vi interessa. Vi chiede se volete ripetere questa cosa, tutti i giorni, feriali, fine settimana, eccetera, eccetera. La data, quindi, se è quella di oggi, o volete impostare una data per future sveglie, oppure la parte audio. Quando avete selezionato la sveglia, vi si abilita la parte, l'ultima voce, quella audio, con sveglia singola. Se ci cliccate, qui vi dà tutta una serie di suoni che potete impostare. Dopodiché decidete voi. Fatto questo, naturalmente, cliccate in alto a destra su salva, e la sveglia sarà impostata. Passiamo ora, invece, alla seconda voce, promemoria. Qui, come potete vedere, è già stato impostato qualcosa. Quello che vi dicevo prima, mia moglie ha visto una pubblicità, ha detto dal dispositivo che gli interessava quel programma che era per quel giorno a quell'ora. Quindi, in automatico, in maniera vocale, Alexa ha impostato direttamente questo tipo di promemoria. Se volete aggiungerne altre, non fate altro che cliccare sul tasto più, qui a destra, e qui vi chiederà per cos'è questo promemoria. Quindi gli mettete il titolo, diciamo, passatemi il termine. Se volete che venga ripetuto, e in quel caso, come in quel promemoria che avevo prima, di innaffiare le piante, tutte le domeniche a un determinato orario, e da dove deve partire l'annuncio. Quindi, come potete vedere, non potete sbagliare. Mettete il titolo, mettete se volete che si ripeta questo tipo di promemoria, la data e l'ora. Dopodiché, su che dispositivo deve essere riprodotto questo tipo di annuncio. Finito tutto questo, solito tasto in alto a destra, salva. Torniamo indietro, e adesso andiamo ad impostare un timer. Il timer, soprattutto, viene impostato da, di solito, chi è in cucina, perché magari ha bisogno per una determinata cottura, un timer, o comunque poi decidete voi per che cosa impostarlo. Questo tasto, questa funzione, viene abilitata in maniera vocale. Ma passiamo alla prova. Alexa, imposta sveglia. Una sveglia a che ora? Per domani mattina alle sette. Sveglia impostata per domani alle sette del mattino. Come avete potuto vedere, mi compare immediatamente sulla mia app. Ed ora proviamo con i promemoria. Alexa, imposta promemoria. Un promemoria per cosa? Lavare la macchina. Quando devo ricordartelo? Domani mattina. A che ora dovrò ricordartelo domattina? Alle dieci. Ok, te lo ricorderò domani alle dieci. E anche in questo caso, è stato molto semplice, l'attivate, gli dite che cosa volete fare, e poi vi farà tutta una serie di domande fino a quando poi, una volta confermato, vi comparirà anche sul vostro dispositivo in modo tale che non vi possiate dimenticare. Ultima voce. Andiamo ad impostare il timer. Alexa, imposta timer 5 secondi. 5 secondi, a partire da ora. parte il countdown. Alexa, stop. Finito il countdown, basterà semplicemente dirgli di stopparsi. E il dispositivo si ferma. Se per caso dovete eliminare ad esempio la sveglia che avete impostato, dall'applicazione non vi basterà semplicemente fare uno scroll verso sinistra e come vedete compare elimina. Cliccate lì e la sveglia viene eliminata. Ma potete farlo anche in maniera vocale. Alexa, elimina sveglia. Sveglia delle sette del mattino cancellata. Come avete sentito viene disabilitata o non viene eliminata in maniera definitiva perché magari pensa che più avanti potreste anche riattivarla. Comunque per maggiore sicurezza e se proprio sapete che non dovete più utilizzare quel tipo di funzione scroll elimina e la sveglia viene tolta. Stessa cosa per quanto riguarda il pro memoria in maniera definitiva e vi compare anche la conferma e basta. Questo è quanto. Speriamo che questo video semplicissimo ma ripetiamo per i neofiti potrebbe essere utile. Quindi abbiamo scoperto cos'altro può fare il nostro dispositivo a casa. Non è solamente un soprammobile come abbiamo già detto altre volte ma è un qualcosa che piano piano stiamo scoprendo che può fare tante cose per noi. Abbiamo messo un nuovo tassello al muro il tassello del 12 l'abbiamo messo l'abbiamo messo adesso possiamo prendere il quadro no scherzi a parte speriamo appunto che questi video brevi possano servire a più persone ci stiamo concentrando appunto su questo chiediamo sempre il vostro aiuto se avete nuove idee nuovi spunti da poterci suggerire scrivetelo pure qui sotto nei contatti scrivetelo pure qui sotto nei commenti e detto questo vi ricordiamo che sotto qui ci sono c'è il box dove l'abbiamo inserito dei link come c***o si chiama l'info box no come è che si chiama che c***o qua sotto vabbè vediamo qua sotto c'è un infobox grosso così qua sotto la scala qua sotto nel pl proprio i commenti ma dopo che c***o vogliamo ricordarvi poi che qui sotto trovate i link di alcuni prodotti che abbiamo testato che magari abbiamo visto e ci sembrano ottimi prodotti da potervi suggerire quindi fateci un giro cliccateci sopra e se poi vi interessa acquistatelo esatto io direi che anche per questo video è tutto alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti